Sono lieta di stare qua per presentare questi atti, il titolo l'abbiamo già sentito, anche se forse a voi che sappiate chi sono, allora sono la nuova direttrice della Biblioteca Herziana, una di due al momento e saremmo in tre, forse speriamo bene, fra un anno diciamo, che forse sembra che proprio io presento il volume nel quale la Herziana già è così presente, ma io lo vedo come un'ottima opportunità di pensare su quello che facciamo in queste istituzioni e ho avuto il dovere di leggerlo bene e perciò vi presento in poche parole le riflessioni su quel volume. Allora, il testo scritto adesso diventa molto più comprensibile. Allora, è stato un vero piacere di lettura di questi articoli che affrontano domande e risposte storico di un convegno oramai molto noto alla comunità della nostra disciplina, articoli che illuminano la situazione, come abbiamo sentito, storica del 1912, riflettendo un valore che continua ad essere attuale per la storia dell'arte odierna, una disciplina che nel 2012, ed ogni giorno sempre più, vede allegarsi il bacino del proprio materiale di studio e ampliarsi l'ospetto delle esigenze su cui si affina la sua metodologia. Come sappiamo oggi, il congresso romano del 1912, organizzato da Adolfo Venturi, fu in assoluto uno tra i più influenti della storia del CIHA, in quanto cercò di espandere non solo il territorio dell'arte europea, ma anche il campo stesso di quello che veniva chiamato, o meglio definito, arte, verso altri tipi di oggetti, immagini, prima tralasciati della piccola disciplina tanto orgogliosa della sua materia estetica. Penso che questo era veramente uno spunto molto notevole. Come diversi studi di questo libro, del quale parlo, sottolineano, si trattò soprattutto di un confronto con l'antropologia, innovativo fu però anche il confronto con l'arte contemporanea, che oggi, anche questo voglio qua sottolineare, almeno in Germania, interessa la maggior parte degli studenti, forse è un po' diverso in Italia, ma in Germania è diventato un vero problema, un fattore all'amante che ci fa quasi dimenticare le radici del concetto artistico a noi pervenuto. Perciò mi sembrava veramente interessante di vedere quella novità nel 1912, che qualcuno parla dell'arte contemporanea, e che si possono scrivere articoli su quel fatto, anche quando io ho studiato, anni 90, 80, era ancora difficile di fare qualcosa sull'arte contemporanea, ma veramente in Germania è diventato problematico di trovare studenti che vogliono studiare quello che facciamo, fa la maggior parte di noi oggi, solo come un'osservazione. Mi sembra molto interessante in questa occasione riflettere sugli eroi del 1912 che sono sopravvissuti fino ad oggi. L'abbiamo già sentito, e tutti quanti come primo pensiamo ad Abibabok, esempio di un approccio comparativo alle culture e iniziatore di una Bild Wissenschaft, cioè una scienza delle immagini, nonché di un pensiero della migrazione delle immagini, della quale tratta per esempio Hans Belting in quel volume, che anticipa la concezione attuale la quale concepisce le opere date come attori che interagiscono e si muovono, un approccio ripreso dagli studi di Bruno Latour e la sua Hector Network Theory. Mi piaceva molto di leggerlo anche in questi articoli che con la riflessione sul 1912 c'è già questo fatto. Inoltre è stato molto istruttivo leggere nell'articolo di Mikolfotti che Abibabok proprio nel 1912 non si stava solo occupando di opere straniere, ai quali pensiamo sempre, o di opere del Rinascimento, bensì del monumento a Otto von Bismarck di Hugo Lederer e Emil Schaut, un'opera, cito, «certo non particolarmente riuscita e tantomeno innovativa», con il quale Wabok cercava di difendere la monumentalità che secondo lui aveva un valore solo dal punto di vista di una presa di distanza. Lo cito perché abbiamo questa immagine di Abibabok, di un ricercatore innovativo che ha fatto tutto quello che ci interessa adesso, ma c'era quell'altro lato e forse dobbiamo anche cambiare un po' la nostra prospettiva su di lui. Ciò nonostante diversi autori parlano del ruolo importante che Abibabok ebbe per i suoi epigoni grazie a questa apertura della storia dell'arte. Gerd Wolf, per esempio, esamina i suoi studi come l'inizio di una storia dell'arte globale e discute il problema attuale delle due strade che essa ha preso negli ultimi anni, una verso un universalismo dell'arte che si cerca di spiegare tramite, per esempio, le neurosciences, l'altra verso una cartografia delle differenze culturali. Forse, anche questo tra parentesi, con una distanza temporale maggiore ed in un'altra sede, secondo me, sarebbe molto prolifico esaminare tutta la lettura del convegno storico e penso a quello del 2012 come autodefinizione della disciplina stessa. Per me era molto interessante, siccome non ci sono state, di leggere adesso questi articoli già quattro anni dopo, si vede già la situazione nella quale sono stati scritti e come loro vedono i loro antenati, cioè un secolo prima. Roberto Longhi, per esempio, eroe fino ad oggi della storia dell'arte italiana, fu l'unico ad occuparsi del futurismo ed in questo confronto, cioè tra Warburg e Longhi, si vede benissimo quanto difficile sia valutare la nozione di contemporaneità sia riguardo agli studiosi sia nel caso dei metodi di ricerca e del loro futuro. Specialmente Alessandro Nuova ha ricordato quanto il successo della Bildwissenschaft di Warburg abbia messo in ombra gli altri contributi di lingua tedesca al Congresso, oltre a lasciare in ombra gli illustri assenti quali Ernst Steinmann, che poco dopo diventò il primo direttore della Biblioteca Herziana, Wilhelm Bode, Heinrich Brockhaus e, soprattutto August Schmaso, il fondatore del seminario fiorentino che fu alle origini del Kunst di Firenze. Non so se anche a Roma è chiamato solo il Kunst, quello di Firenze è il Kunst e noi siamo la Herziana, tutti i due istituti di Max Planck, ma questo normalmente non si dice, anche se è molto importante di sottolineare anche questo. Prima di tornare alle istituzioni vorrei nominare due campi a me cari che stavano ancora in stato nascente nel 1912, anche questo abbiamo già sentito, uno gli studi sul Mediterraneo e poi l'arte bizantina. Di nuovo Gerd Wolf, come tutti gli altri specialisti che pure sarebbe interessante coinvolgere nell'analisi del tutto volume, accenna il Mediterraneo oggi nel focus di molte ricerche. Wolf ammette che il Mediterraneo rimase per Warburg periferico rispetto ai suoi interessi e, ciò nonostante, lo riconosce come anticipatore di tale ramo di ricerca. Di nuovo, Leroy Warburg ha già fatto più o meno tutto. Proprio le diverse concezioni del Mediterraneo come sappiamo oggi purtroppo una regione più di conflitti che di convivenza sarebbero un argomento molto interessante per un paragone storico perché vi si riconosce a colpo d'occhio quanto la situazione politica ci condizioni nei nostri studi. Cioè, se noi adesso parliamo del Mediterraneo non so qual è la vostra immaginazione ma nel 1912 era ancora una regione abbastanza compatta e culturale che per noi è diventata una cosa molto spazzata molto divisa e veramente un campo di politica. Questo, cioè la condizione politica che condiziona i nostri studi vale anche per gli studi sull'arte bizantina che, come mostrano Antonio Iacobini e Giovanni Gaspari erano ancora all'inizio nel 1912 poco dopo la scoperta di Santa Maria Antiqua a Roma. La questione della provenienza orientale o occidentale di queste forme così come si poneva all'epoca non ha trovato una risposta finale ma abbiamo fatto molti progressi nella comprensione delle opere stesse come mostra la bellissima riapertura di Santa Maria Antiqua poche settimane fa dove siamo stati anche con i relatori del convegno sul papato medievale cioè anche l'arte bizantina che naturalmente è diventata una parte della nostra disciplina quasi normale ha molto da fare con la questione di Ost ed Ovest e come concepiamo questi due lati le frontiere e così via e perciò per me era molto interessante di vedere come era fatto in questi studi. Poi organizzato insieme ai direttori degli istituti tedeschi in Italia non è una sorpresa che il contributo scientifico e istituzionale di questi sia stato descritto in dettaglio. Per me ancora nuova in quest'ambiente è stato di grande aiuto anche per capire meglio la relazione Firenze-Roma città in cui si trovano i nostri istituti gemelli oggi come già detto riuniti sotto il tetto della Max Planck-Sellschaft. Per me stesso devo di nuovo ricordare che il Kunst a Firenze venne fondato già nel 1897 allora ancora l'unico istituto tedesco di quel genere in Italia perché non so almeno dal mio punto di vista adesso sembra sempre la Herziana è quella istituzione grande molto più lungo nella istituzione della Max Planck e il Kunst era un po' quello più piccolo ma invece veramente viceversa. La Biblioteca Herziana a Roma fu aperta come istituto solo nel 1913 e penso che tutti ricordino ancora le celebrazioni devo fare come in classe penso che tutti quanti sono stati lì quindi nel 1912 era una semplice collezione privata anche se venne aperta ai partecipanti del congresso dal 15 al 20 ottobre come ha accentuato la signora Eva Cifra perché normalmente si ricorda solo una serata Ernst Steinmann come già detto non era stato invitato al congresso ciò nonostante colse l'occasione per organizzare un ricevimento al Palazzo Zuccari non nomino tutte le altre istituzioni che facevano parte per l'organizzazione del convegno e che fanno parte della nostra convivenza di storici dell'arte ma mi sembrava molto illuminante di vedere di nuovo quanta forza e quanta importanza hanno proprio queste istituzioni perché o parliamo del 1912 o del 2012 senza tutte queste istituzioni anche senza l'Accademia per esempio non sarebbe così fruttuoso fruttuibile il nostro lavoro qua a Roma poi un ultimo paragrafo sul ruolo delle nazioni come ci segnala già il titolo l'Italia e l'arte straniera pensandoci diventa una relazione un po' almeno vista da oggi strana nel 1912 l'arte italiana era al centro dell'attenzione circondata però dall'arte straniera arte straniera che in quell'ambiente e a quell'epoca poteva essere solo europea e che veniva qualificata sulla base di parametri sviluppati nel rinascimento italiano diversi contributi qui agli atti discutono i primi timidi passi di questo tentativo di scambio culturale e nello stesso tempo gli ostacoli storici alla comprensione di tale scambio e dei mezzi con cui si articolava Miguel Falumier spiega i motivi dei pregiudizi nazionali nei rapporti artistici tra Italia e Spagna che nel 600 erano stati importantissimi come sappiamo tutti ma che le rispettive storiografie nazionali hanno sempre descritto con parzialità fino ad oggi penso abbiamo potuto osservare che non solo la storia dell'arte spagnola è meno estesa di quella dell'Italia o dei Paesi Bassi ma soprattutto che le relazioni tra gli artisti i collezionisti le opere stesse e gli stili nazionali più o meno ibridi raggiungono solo lentamente il focus della nostra disciplina e ne approfitto qui per fare pubblicità al nostro convegno sullo stile come concetto della proprietà che facciamo dal 23 al 25 giugno perché penso veramente che il concetto della nazione e il concetto dello stile e il concetto della proprietà è una cosa da concepire nuovamente e questo si è visto anche in questi atti poi negli atti Bertmeier si è occupato delle relazioni storico-artistiche italo-neerlandesi per mostrarci come nel 1912 esistesse solo un'immagine approssimativa di questo rapporto e gli altri si osservano che si stava iniziando con un altro linguaggio metodologico a pensare allo scambio tra immagine e la loro migrazione oggi la relazione tra l'Italia e l'arte straniera da intendersi oramai come arte globale è cambiata completamente e questo lo sentiamo ogni giorno né l'Europa né l'Italia si trovano più al centro del mondo e neanche al centro della storia dell'arte per questo motivo dobbiamo cercare di creare nuove domande che aiutino a rianimare la storia dell'arte italiana ed europea entro una rete globale e questo mi porta a tante domande che vi leggo vedrete ancora oggi ci dobbiamo chiedere penso quale può essere il valore di una storia dell'arte europea in un'Europa che incontra molte difficoltà a definire se stessa quale sarà il ruolo futuro delle istituzioni storico-artistiche nel mondo della globalizzazione devono essere inter- o transnazionali quello diciamo già da decenni o devono forse dimenticare tutte le nazioni sappiamo già chi sarà protagonista dei futuri cambiamenti e sviluppi della storia dell'arte dove sono i centri della storia dell'arte europea oggi in America chiedo come organizzeremmo queste ricerche in un mondo che non parlerà solo italiano tedesco e soprattutto inglese ma tante altre lingue che noi dovremmo imparare con quali metodi e approcci si possono leggere le globalizzazioni storiche oggi quale ruolo occupa l'arte contemporanea come abbiamo visto da longhi nei nostri studi e considerate gli enormi sforzi del primo novecento nell'aprire biblioteche ed istituti e nel pubblicare immagini che cosa è cambiato per la storia dell'arte con internet e le nuove possibilità di visualizzazione migrazione e manipolazione di immagini ovviamente non possiamo dare delle risposte semplici a così tante domande forse però la presentazione di un libro così fondamentale come questo ci serve da occasione per progettare un altro convegno per esempio un convegno sulla metodologia di una storia dell'arte europea che si renda conto del cambiamento del ruolo dell'Europa nel mondo così come del cambiamento degli altri cambi di ricerca che di certo ci aiutino anche se in collisione con i concetti tradizionali della nostra disciplina ringrazio per l'attenzione e vi lascio con tutti queste domande grazie facciamo un convegno lungo un mese bellissimo permettetemi prima di passare la parola al professor Paolucci di ricordare anche un altro carattere di necessità nei confronti della presentazione di questa raccolta di atti necessità intendo riferirmi alla dimensione etica e civile che sembra avere la raccolta di questi atti proprio rispetto alle esternazioni e alle prese di posizione che stiamo sentendo soprattutto in questo periodo da parte di Salvatore Setti di Tommaso Montanari ma persino da Ainis Sgarbi qualcuno non inorridisca però sulla dimensione etica e civile ribadisco ecco allora che Marisa Dallai Emiliani nel suo saggio ricostruisca il ruolo centrale le difficoltà di avvio di questo convegno ricostruendo l'importanza di un personaggio come Adolfo Venturi di cui vi ricordo nel 901 si istituisce la prima catedra per lui alla Sapienza di Roma nel 901 parallelamente parte la serie della storia dell'arte italiana ma soprattutto per la sua idea di la formazione della coscienza artistica nazionale e per l'educazione italiana degli italiani questo mi sembra un bellissimo invito che a partire da quegli anni debba comunque permeare tutto il nostro lavoro grazie la parola al professor Paolo Luce grazie a tutti